Salve a tutti! Buonasera! Siamo alla Fenice Ricevimenti ed oggi è il 26 luglio 2019 abbiamo festeggiato le nozze di Gioacchino e Roberta e allora anche questa è stata una splendida serata in una fantastica location ma noi ormai non possiamo fare a meno e vi diciamo chiediamola agli sposi! Eccoli qua! Buonasera! Avvicinatevi qui che c'è più luce vicini, vicini, vicini! Illuminiamoli che sono bellissimi! Ciao ragazzi! Com'è andata? Alla grande, bellissima! Sono diventato ballerino grazie alla musica improvvisata! Realmente è andato più volte in aria grazie a te! Esatto! Però sono vivo, vegeto e soprattutto ci siamo divertiti tantissimo! Sono contentissimi! Non hai rotto il lampadario già qualcosa? Non ho rotto il lampadario quindi... Lei ci ha andato vicino quando l'ho trovata! Io ho parlato sulle scarpe e ho ballato senza distruggere i piedi! Ha sbagliato senza distruggersi i piedi! Bravo! Non hai cambiato le scarpe quindi! No! Sono sempre le stesse! Bravo! E un applauso per la sposa! E allora noi vi auguriamo tanta felicità ai nostri amici Gioacchino e Roberta e ci vediamo presto perché ci sono le nozze degli amici ma noi non lasciamo nulla! Ragazzi grazie di tutto e noi la chiudiamo sempre allo stesso modo che con Tonino e con Valerio si va in scena!